Buonasera da UltimaTG, apriamo con l'operazione Garbage Fair che ha caratterizzato la giornata a Catania, funzionari e imprenditori in ruoli apicali, tra l'altro nella pubblica amministrazione sono i personaggi coinvolti proprio nell'inchiesta della Procura di Catania. Oggi la DIA ha eseguito arresti e misure interdittive. Un affare da oltre 350 milioni di euro al centro di un giro di corruzione con protagonisti vertici del Comune di Catania e privati. Un business relativo alla raccolta dei rifiuti proprio nel Comune Etneo che ha portato a provvedimenti cautelari nei confronti di sei persone, quattro tra funzionari e dirigenti del settore ecologia del Comune di Catania e due imprenditori romani, soci dell'Ecocar, l'azienda che per conto del Comune ha gestito il regime di prorogazio alla raccolta dei rifiuti. Dal febbraio 2011 al dicembre 2016 il servizio di spazzamento, raccolta e smaltimento dei rifiuti a Catania è stato gestito dalle società IPSRL e DOICOS. Per il 2017 il Comune ha indetto una gara pubblica che prevedeva l'affidamento del servizio per 84 mesi per una cifra superiore ai 351 milioni di euro. Al termine prefissato per la presentazione di offerte, l'11 gennaio del 2017 non risulta presente alcuna offerta. Viene avviato dunque l'iter per una cosiddetta gara ponte che prevede l'affidamento temporaneo per 106 giorni del servizio. Questa volta si presenta un unico offerente, il consorzio nato fra la Senesi SPA e la Ecocar, meglio noto come Seneco. Proprio questa assegnazione è al centro dell'indagine della direzione distrettuale antimafia. Il consorzio infatti non detiene criteri utili a potersi aggiudicare l'appalto. La Ecocar fa capo all'imprenditore Francesco Deodati, presta nome del reale amministratore unico della società, il cugino Antonio Deodati, colpito da un'interdettiva antimafia emessa nel giugno 2014 dal prefetto di Roma e titolare della IPSRL, la società che insieme a LOICOS aveva gestito il servizio di raccolta rifiuti a Catania fino a quel momento. Cambiano le società ma non i soggetti dunque, questo grazie ai ruoli decisivi interpretati da due funzionari comunali. Leonardo Musumeci, responsabile unico del procedimento e a capo della direzione Ecologia e Ambiente del Comune, e Orazio Fazio, responsabile dei servizi esternalizzati dello stesso ufficio. Dalle intercettazioni rilevate tra i due risulta come fossero consapevoli della continuità tra la IP e la Ecocar ma anche dei mancati requisiti che il consorzio presentava. Ciononostante la gara è stata poi aggiudicata. Fazio addirittura avrebbe coperto alcune inadempienze delle ditte IP e OICOS in cambio di regali come smartphone, computer o pagamento di vacanze. Allo stesso modo Massimo Rosso, direttore della Direzione Ragioneria Generale, provveditorato ed economato del Comune di Catania, si sarebbe attivato per garantire pagamenti a favore del consorzio Seneco con tempi e modalità a vantaggio del privato e a sfavore dell'ente comunale. Un dot des con cui Rosso manteneva l'affitto della Casa Roma per gli studi universitari delle proprie figlie, i cui fidanzati sono stati assunti a tempo indeterminato da altre imprese riconducibili a Deodati. Coinvolto anche Antonio Natoli, dirigente della IP e del consorzio Seneco, in quanto collaboratore fidatissimo di Antonio Deodati e Catania, nonché colui che si occupava di non far mancare nulla né a Fazio né a Rosso. L'operazione condotta dalla D è denominata Garbage Affair, ha portato all'arresto di Antonio e Francesco Deodati, Orazio Fazio, Antonio Natoli, Massimo Rosso e l'interdizione per un anno dei pubblici uffici per Leonardo Musumeci. Gli indagati sono accusati a vario titolo di turbata libertà degli incanti e corruzione. E sentiamo adesso le parole del capo della Procura della Repubblica di Catania, Carmelo Zuccaro e del capo della DIA, Renato Panvi. Oggi abbiamo accertato a livello di gravi indizi di colpevolezza che gran parte di questi disservizi sono legati al fatto che dei funzionari pubblici hanno servito le loro funzioni, sono sulla busta paga, sono sul libro paga di queste ditte per non fare il loro dovere. Abbiamo accertato vari aspetti. Il primo aspetto è il momento in cui si aggiudica la gara ponte perché vanno deserte le tre gare per l'affidamento definitivo del servizio e non si esclude la ditta, il consorzio che è l'unico presentatore dell'offerta, benché questo consorzio non presenti i requisiti richiesti dallo stesso bando, perché negli ultimi tre anni non aveva gestito un servizio ad un bacino di utenza che è paragonabile a quello della città di Catania e quindi 315 mila abitanti. Di questo sono perfettamente consapevoli funzionari, si dice che è stato fatto un errore e questo errore si vedrà di correggere in qualche modo e intanto non vengono esclusi. Non vengono esclusi inoltre, benché l'amministratore di fatto di questa società, l'Ecocar, che è una delle due ditte del consorzio, sia in realtà la prosecuzione di fatto di una ditta che era stata colpita, la IPI, che era stata colpita da un'interdittiva antimafia che diventa definitiva per decisione del Consiglio di Stato. Questo appalto era conveniente sicuramente per le società, per come è stato detto dagli stessi indagati o gli stessi arrestati. Commentando il prezzo, quindi commentando il valore dell'appalto 350 milioni di Euro, il Deodati asseriva la possibilità, avrebbe voluto gestirlo anche addirittura in maniera con la sua società senza condividerlo con altri. Quindi siamo di fronte a un appalto appetitoso che sicuramente non può non lasciare l'appetito delle stesse società che sono interessate a conquistare questa fetta di denaro pubblico. Parliamo adesso di politica, ma soprattutto di istituzioni, in questo caso dell'ARS, perché corsa contro il tempo per l'approvazione del bilancio entro il 31 di marzo, diffusa da Palazzo dei Normanni la calendarizzazione che porterà al varo della manovra finanziaria e tra le date spunta anche la deposizione delle presunte dimissioni dell'assessore alla cultura. Vittorio Sgarri. Varare il bilancio per evitare l'esercizio provvisorio e approvare il disegno di legge di stabilità è questo l'obiettivo dell'Assemblea regionale siciliana. Il tutto da fare in tempi record entro, cioè il prossimo 31 marzo. Per i prossimi 15 giorni al Parlamento siciliano scatterà la corsa contro il tempo dopo che le ultime sedute a Palazzo dei Normanni sono durate 20 minuti in tutto. 14 minuti quella del 13 marzo e solo 6 minuti e 19 secondi quella del 14 marzo. Adesso i tempi stringono, la conferenza dei capigruppo si è riunita e bisogna rispettare la cosiddetta calendarizzazione. Il governo regionale si è impegnato a trasmettere i documenti finanziari entro mercoledì 21 marzo. Il calendario dei lavori parlamentari prevede dunque che martedì 20 marzo la Commissione bilancio approvi il rendiconto e il bilancio consolidato. Giovedì 22 il documento di programmazione di economia e finanza regionale dovrebbe avere il via libera in Commissione bilancio dopo la relazione della sezione di controllo della Corte dei Conti per arrivare in aula il 27 marzo. In questo stesso giorno, come si legge nella nota dell'Ars, dovrebbero essere già state depositate le dimissioni di Vittorio Sgarbi dalla carica di assessore regionale ai beni culturali, essendo stato eletto alla Camera che si insedierà il 23 marzo. Salvo complicazioni e sedute lampo, dunque entro il 31 marzo l'Ars potrebbe approvare la manovra finanziaria. Intanto il ritardo sulla tabella di marcia è evidente, così come fatto notare dal capogruppo del PD a Lars Giuseppe Lupo e dalla capogruppo del Movimento 5 Stelle Valentina Zafarana. Ritardo non addebitabile al Parlamento, ha detto il Presidente Miciche, ma neanche al Governo che ha dovuto attendere oltremisura i dati necessari per varare il bilancio consolidato. Adesso tutto dipenderà dallo stato dei lavori della Commissione bilancio presieduta da Riccardo Savona, che intanto invita il Governo a presentare una finanziaria più snella possibile. Sequestro di beni all'ex PM di Palermo Antonio Ingroia. Il provvedimento della Guardia di Finanza arriva nell'ambito dell'inchiesta in cui l'ex magistrato è indagato per peculato quando ricopriva la carica di amministratore unico di Sicilia e Servizi. L'ex governatore Rosario Crocetta lo aveva messo a capo di Sicilia e Servizi, la società capitale pubblico che gestisce i servizi informatici della Regione Sicilia. Adesso per l'ex magistrato Antonino Ingroia, avvocato a tempo pieno e candidato alle scorse elezioni, è arrivato il sequestro di beni e un'indagine per peculato. Nella vicenda è coinvolto anche Antonio Chisari, all'epoca dei fatti revisore contabile della società partecipata. Anche lui come Ingroia è accusato di peculato. Il sequestro complessivo ammonta oltre 150.000 euro. Da amministratore unico di Sicilia e Servizi, Ingroia avrebbe percepito indebitamente rimborsi di viaggio per 17.000 euro e si sarebbe liquidato un'indennità di 117.000 euro per pochi mesi di lavoro. A titolo di indennità di risultato per la precedente attività di liquidatore. In aggiunta al compenso che ieri è stato riconosciuto dall'Assemblea per un importo di 50.000 euro. L'autoliquidazione del compenso avrebbe determinato un abbattimento dell'utile di esercizio di Sicilia ai servizi del 2013, andando da 150.000 euro ad appena 33.000 euro. Secondo l'accusa, Ingroia si sarebbe inoltre indebitamente appropriato di altri 34.000 euro a titolo di rimborso spese sostenute per vitto e alloggio nel 2014 e nel 2015, in occasione delle sue trasferte a Palermo per svolgere la funzione di amministratore. E proprio Ingroia ha rilasciato una replica. Ho appreso dalla stampa del provvedimento emesso nei miei confronti, prima ancora che mi venisse notificato. Comunque ho la coscienza a posto perché so di avere sempre rispettato la legge, come ho già chiarito, e come dimostrerò nelle sedi competenti, così l'ex PM Antonino Ingroia. Cambiamo argomento. Donne vittime di tratta a Palermo costrette a prostituirsi. Scoperta dalla polizia un'organizzazione criminale che schiavizzava giovani donne. E' la terza industria illegale al mondo per fatturato dopo armi e droga e la forma moderna di schiavitù. Le vittime sono soprattutto le donne. Stiamo parlando della cosiddetta tratta di esseri umani. Donne che provengono da paesi stranieri, che arrivano in Italia dopo viaggi della speranza estenuanti, ma che speranza non trovano perché una volta arrivata a destinazione diventano vere e proprie schiave del sesso, costrette a vendere il loro corpo sotto minacce e violenza. L'ultimo caso scoperto a Palermo dove la polizia di Stato con l'operazione denominata Traffking ha eseguito tre provvedimenti di fermo disposti dalla DDA della procura di Palermo nei confronti di tre cittadini di origine nigeriana. Due donne, Eric Precius di 22 anni e Vincent Pansienz, detta Isha, di 37 anni. Nonché il compagno di quest'ultima, Abia Israel, detto Papi, di 52 anni. I tre sarebbero a capo di un addesolante sistema di sfruttamento di giovani donne straniere giunte in territorio nazionale, responsabili dei reati di tratta di esseri umani finalizzati allo sfruttamento della prostituzione in concorso, violenza sessuale aggravata e procurato aborto. Le indagini condotte dalla squadra mobile di Palermo hanno preso le mosse dalle dichiarazioni di due donne vittime di tratta, costrette a prostituirsi subendo innumerevoli abusi, fino ad essere violentate dal loro stesso sfruttatore e in alcuni casi essere addirittura costrette ad abortire. Dalle indagini è emerso come una delle due mamane, Eric Precius, si sarebbe occupata di accogliere le ragazze mandate in Italia dopo essere state reclutate da connazionali a fronte del pagamento di un ingente corrispettivo di denaro. Successivamente la Eric le avrebbe collocate in diverse case di prostituzione dislocate sul nostro territorio per metterle in condizioni di ripagare il debito contratto con l'organizzazione. Scoperte dagli agenti due case di prostituzione, una ubicata nel quartiere Ballarò di Palermo e l'altra a Trapani, ma gestite entrambi dalla mamanna Aisha, con l'ausilio di alcuni suoi connazionali, tra cui il compagno Abia Israele. Per gli stessi reati risulta inoltre indagato un altro soggetto, E.B. Samuel, di 35 anni, appartenente allo stesso gruppo che attualmente è detenuto nel carcere di Trapani. Andiamo all'agrigentino perché cinque operai sono stati sorpresi dai carabinieri a bruciare rifiuti pericolosi all'interno di una scuola malterna, piuttosto che smaltirli mediante una ditta specializzata. Avevano appena terminato la loro giornata di lavoro nell'ambito di alcune migliorie edilizie che sta portando avanti una ditta di Barcellona Pozzo di Gotto, in provincia di Messina, all'interno di una scuola materna di Ravanusa, un paese di 12.000 abitanti in provincia di Agrigento. Finito il programma di lavoro rimaneva un unico problema, smaltire rifiuti che si erano accumulati, tra cui anche materiali plastici, durante le ore di lavoro. Ma piuttosto che smaltirli seguendo la normativa vigente, e cioè mediante una ditta specializzata di Palermo, i cinque operai dipendenti della ditta messinese hanno ben pensato, ritenendo evidentemente e più conveniente, sia in termini economici che come tempistica, di bruciarli. In pochissimo tempo la combustione dei materiali a cui era stato dato fuoco ha provocato una fitta nebbia di fumo, con conseguente odore, che ha avvolto letteralmente le classi e le aree ricreative della scuola materna. Proprio in quel momento, durante un servizio di pattuglia, i carabinieri della stazione di Ravanusa hanno notato che qualcosa dall'interno della scuola non andava, decidendo così di intervenire ed entrare nella struttura. Così i militari dell'arma hanno sorpreso, in flagranza di reato, cinque operai dipendenti di una ditta di costruzioni, mentre stavano bruciando rifiuti di varia natura, tra i quali anche materiali plastici, la cui combustione risulta molto dannosa per la salute. Immediatamente sono scattate le manette ai polsi del quintetto, un licatese 56 anni, un catanese 53 anni ed altri tre operai originari di Barcellona Pozzo di Gotto, con l'accusa di combustione illecita di rifiuti pericolosi e con l'aggravante di aver agito nell'esercizio di un'impresa, ottenendo così un notevole abbattimento dei costi. Infatti, la ditta in questione per legge avrebbe dovuto richiedere l'intervento di una ditta specializzata per smaltire correttamente rifiuti speciali prodotti pericolosi per la salute pubblica. Andiamo a Gela per quella che è stata denominata operazione Cabriolet, quattro arresti per una associazione a delinquere finalizzata alla ricettazione di assegni falsi e truffe. Una banda di truffatori perfettamente organizzata che operava in tutta la Sicilia. La loro base erano i scemi e da qui si spostavano in tutta la regione. Movimenti che però non sono sfuggiti alle fiamme gialle, che da tempo erano sulle loro tracce. Il meccanismo della truffa era semplice e collaudato. Si contattava il grossista ai venditori per concordare un appuntamento per l'acquisto della merce che veniva poi pagata sempre di venerdì tramite un assegno circolare falso. Complice la chiusura delle banche il fine settimana, i truffati si accorgevano dell'inganno solo il lunedì successivo, quando si recavano in banca per incassare il denaro. Da qui appunto il nome dell'operazione, Cabriolet. Da Caltanissetta ad Agrigento passando per Catania, Trapani e Palermo, la Guardia di Finanza ha accertato almeno 20 casi con un importo di oltre 120.000 euro. La banda acquistava e rivendeva beni di ogni genere, dal carburante all'olio passando per i capi d'abbigliamento, i cosmetici, i cellulari ed ogni altra merce molto ricercata nei mercati. Questa operazione si chiama Indonesia ed è avvenuta a Siracusa. Ha confiscato il gasolio di contrabbando trasportato dalla Graham-Hem, oltre 100 kg di carburante, soldi e tabacchi lavorati esteri. 100 kg di carburante all'interno di tre cisterne convenzionali trovate all'interno della nave Graham-Hem. Il gasolio è stato sequestrato nell'ottobre scorso dalla Guardia di Finanza nell'ambito dell'operazione Indonesia. Oggi il provvedimento di confisca da parte della Guardia di Finanza e dell'ufficio antifrode dell'Agenzia delle Dogane. Ad ottobre scorso le fiamme gialle avevano individuato la motonave battente bandiera del Togo vicino alla riserva naturale protetta di Vendicari nel Siracusano. In quell'occasione il comandante non era stato in grado di esibire il manifesto di carico. Da un'attenta ispezione fu ritrovato non solo il gasolio nascosto all'interno di tre cisterne convenzionali nella zona maestra dell'imbarcazione e all'interno di un doppio fondo ricavato artigianalmente nella zona di Sentina sotto la linea di galleggiamento ma anche 121 kg di tabacchi lavorati esteri e 31.000 euro considerato provento dell'illecita attività di contrabbando di oli minerali. Il comandante 25enne venne fermato per contrabbando di oli minerali di tabacchi lavorati esteri e riciclaggio denunciati anche quattro componenti dell'equipaggio per favoreggiamento personale. A conclusione delle indagini coordinate dal procuratore capo Francesco Paolo Giordano e dirette dal sostituto Vincenzo Nitti è stato confiscato il gasolio, il denaro e i tabacchi lavorati esteri. La motonave è stata dissequestrata e restituita al comandante indonesiano che nei prossimi giorni lascerà le acque territoriali. Parliamo adesso di una vicenda che va avanti da un bel po' di tempo e si riferisce a Giarre perché c'è la chiusura dell'ospedale. Non si placa la protesta della gente che fa sentire la propria voce anche in vista della manifestazione prevista domani per ottenere la riapertura proprio del pronto soccorso. Problemi disagi di ogni tipo con un sistema di emergenza e urgenza sanitaria letteralmente al collasso in tutta la zona ionica e tennea della Sicilia. Da Giarre continua la protesta per quel piano di riorganizzazione della rete ospedaliera regionale che, dicono associazioni ai comitati cittadini, non risponde ai bisogni della gente. Con la legge 5 appunto del 2009, fatta sotto il governo Lombardo, si creano gli ospedali riuniti e nel nostro caso l'ospedale di Giarre è stato riunito con Acireale. È una questione che dovrebbe riguardare solo l'aspetto amministrativo, però in realtà da quel momento avviene una totale depauperazione dei servizi all'ospedale di Giarre a favore di quello di Acireale. Da quel momento in poi avviene quindi una progressiva esplorazione di tutti i servizi possibili e immaginabili fino ad arrivare nel 2015, quando con l'applicazione del decreto Balduzzi, che cosa succede? Succede che viene chiuso il pronto soccorso a Giarre. Domani dalle 9 a Piazza San Pietro di Riposto partirà questo corteo organizzato appunto dai comitati studenteschi e a cui tutta la cittadinanza, oltre i ragazzi sono invitati a partecipare per far sentire forte la voce al neo governatore della Sicilia. E adesso parliamo di Donna Franca Florio che è un soggetto femminile simbolo di Palermo che torna nella sua città attraverso il ritratto di Giovanni Boldini in esposizione a Villa Zito nell'ambito delle iniziative di Palermo Capitale della Cultura 2018. Il ritorno del ritratto di Donna Franca Florio diventa un grande evento di Palermo Capitale Italiana della Cultura 2018. Il celebre dipinto di Giovanni Boldini, il simbolo della Belle Epoque, esposto da oggi al 20 maggio a Villa Zito, il luogo che vide Donna Franca Florio protagonista di numerose iniziative culturali e mondane. La mostra intitolata Il ritorno di Donna Franca Florio è arricchita da alcune iniziative correlate presentate nel corso della conferenza stampa all'auditorium di Villa Zito. Il ritorno del capolavoro di Boldini ha un forte valore simbolico non solo perché coincide con questo anno di rinascita ma anche perché rappresenta l'abbraccio della città a una donna straordinaria e mai dimenticata da Palermo. La mostra, ha spiegato il curatore Matteo Smolizza, risolve un mistero durato oltre cent'anni. La tela oggi esposta è infatti l'unico ritratto boldiniano di Donna Franca Florio, terminato nel 1924 e sotto il quale giacciono la prima stesura. All'evento erano presenti anche il presidente del comitato d'onore, il sindaco di Palermo, Leo Luca Orlando, con i marchesi Marida e Annibale Berlingeri, proprietari dell'opera. Dubbiamente Donna Franca è stata la donna di Palermo, non è vero che era chiamata la regina di Palermo, ma era anche la donna d'Italia, era anche la donna europea. Non c'è stata testa coronata un personaggio importante che non sia venuto a Palermo a renderle omaggio, sia come donna Franca Florio, sia come donna. Siamo orgogliosi di questo evento perché l'abbiamo voluto fin da quando si è aggiudicata l'asta del quadro della famiglia Berlingeri e ci siamo riusciti a portarlo qua perché è un simbolo, simbolo di un periodo storico della nostra città, sicuramente florido, quello di Florio, in cui Palermo era non soltanto sotto il profilo economico in un momento di eccellenza, ma anche sotto il profilo culturale. All'epoca Palermo senza alcun titolo e senza alcuna designazione era sicuramente una delle città europee della cultura e oggi, come per incanto, donna Franca torna proprio nel 2018, anno in cui Palermo è capitale italiana della cultura. Ci fermiamo per la pubblicità, torniamo subito dopo e parleremo di sport. Ti ricordi, amore, quando eri piccolina che dicevi sempre speriamo che nell'uovo di Pasqua ci trova un altro uovo di Pasqua? Come quando pensavi di trovarci delle cose utili e invece trovavi il solito... Porta che aveva. E invece lei quando veniamo alle tagare la strada per casa la trova sempre? E trovo sempre l'uovo di Pasqua con dentro un altro uovo di Pasqua. Vieni con me, amore, che la mamma trova le colombe. Le colombe, no. Oh, oh. Pauroso! Playa Mercato per rinnovo locali svende tutto. Piano cottura valvolato 60x60, grande marca da 59 euro. Materasso matrimoniale, più due cuscini ortopedici a soli 69 euro. Playa Mercato rinnova e svende tutto. In via a cui c'è la porta 25, Catania, pauroso! Playa Mercato per rinnovo locali svende tutto. Playa Mercato per rinnovo locali svende tutto. Ci mettiamo laFreeca. Per rinnovo locali svende tutto. Playa Mercato per rinnovo locali svende tutto. Parliamo del Catania. atteso da tre partite fondamentali per il proseguo della stagione ma di questo ricordiamo sarà proprio Bisceglie-Catania la nostra diretta in esclusiva il punto sul momento in casa rossazzurra nel servizio Giovanni D'Antoni Infiamma il rush finale e se già prima era improbabile parlare di gare sulla carta facili d'ora in poi far pronostici diventa vietato lo sanno bene a Catania dato che sulla strada dei rossazzurri ci saranno nel giro di sette giorni tre partite trittico fondamentale per mantenere pressione sul Lecce e tener botta al recupero Lampo del Trapani che con 53 punti condivide la seconda piazza la classifica conta ma non è un'ossessione ciò che interessa alla squadra in primis l'allenatore Cristiano Lucarelli atteso in sala stampa a Torre del Grifo nel primo pomeriggio è l'atteggiamento l'attitudine della squadra può fare la differenza già a partire da domenica alle 14.30 quando lo stadio Massimino arriverà alla Regina formazione in difficoltà e in piena lotta salvezza gli amaranto di Maurizzi non vincono da sette turni con l'ultimo successo datato 21 gennaio i calabresi però sono tra le bestie nere del Catania di questa stagione che memore della partita d'andata persa 2-1 allo scadere dopo una quantità infinita di palle e gol sciupate vorrà riscattarsi e prendersi prepotentemente i tre punti far tesoro degli errori ma anche far conto delle assenze non poche in vista dell'impegno casalingo mancherà l'Odi squalificato e il lungo degente caccavallo in forte dubbio però c'è anche Andrea Mazzarani che a causa di un guaio muscolare potrebbe essere costretta ad alzare bandiera bianca per farsi trovare in condizione già dai prossimi impegni il modulo intanto non andrà snaturato si insisterà col 4-3-3 e con due ali al supporto della punta con l'obiettivo fisso e chiaro di tornare a essere incisivi anche in fase realizzativa e adesso sentiamo le parole di Lucarelli allenatore del Catania intervenuto proprio oggi in conferenza stampa io ho avuto delle belle sensazioni nella partita di domenica e nella fattispecie nelle ultime due nel senso che noi io ho avuto l'impressione per lunghi tratti della stagione che noi fossimo una squadra con grandi potenzialità ma che faceva fatica a calarsi in questa categoria e soprattutto in questo girone nelle ultime due partite ho visto una squadra forte che ha sposato la categoria e che ha sposato il girone cioè noi domenica siamo stati secondo me una squadra forte di serie C girone C Allora numericamente siamo in emergenza perché con la squalifica di Lodi e con l'infortunio di Fornito e Biagianti Dolorante Mazzarani che sta recuperando dal punto di vista numerico sicuramente abbiamo delle difficoltà però abbiamo dei giocatori che possono eventualmente fare quei ruoli lì io ripeto quello che ho detto col Siracusa ripeto quello che ho detto con la Leonzio cose che in passato magari non ho mai detto sono sempre stato abbottonato massimo rispetto per la Regina abbiamo a esempio la partita dell'andata che quindi non si può mai dire mai nel calcio e per questo ho apprezzato le prestazioni mentali della squadra nelle ultime due partite detto questo e tutte le difficoltà che ci saranno e momenti di sofferenza che ci saranno nella partita noi si deve vincere senza se e senza ma senza se e senza ma dice Lucarelli staremo a vedere parliamo adesso del Palermo che si trova già a Novara perché domani incontrerà la squadra locale al Silvio Piola Tedino qualche dubbio di formazione dovrà fare la conta e gli infortunati vietato sbagliare il diktat di Bruno Tedino che ieri in conferenza stampa ha parlato della necessità di proseguire sulla strada già tracciata oggi la squadra parte per la Lombardia poi in Pullman per raggiungere il Piemonte dove domani pomeriggio al Silvio Piola si giocherà la sfida contro il Novara all'andata la squadra piemontese vinse 2-0 al Barbere di quella sconfitta Tedino ha fatto tesoro qualche dubbio di formazione per il tecnico Rosa che dovrà rinunciare a Moreo per la Pulbalgia in porta ha confermato Pomini al posto di Posavec in difesa Struna sarà il centrale affiancato da Davidovic che sostituirà lo squalificato e infortunato Bellusci Zimischi invece sarà sulla corsia a sinistra a centrocampo sulle fasce a destra e Rispoli a sinistra Ballottaggio e Fjordilino Rolando sulla mediana Gnore o Ciocev accanto a Iaio lo confermato Coronado invece girà alle spalle di Lagumina e Nestorowski e poi c'è il Novara che dopo le zone ero di Corini è ripartito con Di Carlo l'ex capitano del Palermo degli anni 80 sta cercando di far uscire la squadra dalle secche di una classifica pericolosa dopo tre sconfitte consecutive sabato scorso è arrivata la vittoria contro il Brescia domani fischio d'inizio alle ore 15 allo stadio Silvio Piola vediamo adesso una panoramica della trentesima giornata del campionato di Lega Pro eccolo qui il trentesimo turno di campionato per il girone C di terza serie sfociati nella fase clou della stagione le formazioni siciliane scenderanno in campo tutte nella giornata di domenica partenza alle ore 14.30 con il derby siciliano Acragas Sicula Leonzio la sfida in programma sul neutro del desimone di Siracusa e diretta esclusiva della nostra emittente vedrà di scena formazioni dall'umore ben diverso i giganti sono reduci dalla batosta più pesante in campionato e vedono ormai la serie di ad un passo Orfani di Di Napoli l'Acragas è infatti il fanalino di coda del raggruppamento con 11 punti diversa la situazione per la Leonzio nettamente più in forma ma che manca l'appuntamento con la vittoria da oltre un mese attenzione al Trapani la squadra senza ombra di dubbio più in forma dell'ultimo periodo in virtù delle 5 vittorie nelle ultime 6 giornate i Granata secondi a 53 punti dovranno fare a meno di evacuo nel match casalingo di domenica ora di pranzo contro il Bisceglie al suo posto uno tra Campagnacce e Murano per agguantare un successo che metterebbe non poca pressione a Lecce e Catania al Fanuzzi di Brindisi invece si affronteranno Francaville e Siracusa entrambe a secco di vittoria da settimane alla ricerca del riscatto va decisamente peggio i pugliesi che nel 2018 non hanno mai vinto e sono scivolati fuori dai playoff Bianco suona la carica degli aretusei che ritrovano Turati ma dovranno ancora una volta rinunciare al Bombers Cardina spazio al consueto 4-2-3-1 Ultima TG si chiude qui grazie per l'attenzione vi ricordo che questa sera alle 21.30 andrà in onda Hashtag Itamushi il nostro format di approfondimento politico questa sera sarà nostro ospite il sindaco di Catania Enzo Bianco Ultima TG è tutto grazie per l'attenzione e buona serata Grazie per la visione